Credete alla magia? Nel corso dei secoli, i gioielli magici chiamati Miraculous sono stati donati agli eroi più potenti. Possengono il potere assoluto, persino più forte della morte. Non capisco che succede. Il destino del mondo è a rischio. Questi due Miraculous devono essere uniti. Bonjour, mi chiamo Shan Wan. Tu invece che cosa saresti? Un'anguria? Ah, come hai detto? Sono il nuovo eroe della città. Sono qui per salvare il mondo. Scappa! È il momento per proteggere il mondo dal male. Le due eroi rivali devono allearsi. Lui è un invasato. Beh, io continuo a pensare che sembri un'anguria. La vuoi smettere? Anguria. Invasati. Anguria. Invasati. Basta! Dovete collaborare per sconfiggere Papillon. Papillon è il più tembolo. È lui che trasforma l'odio e la rabbia in quelle orribili creature. E l'oscurità si innalzi. Ricordate, più forti insieme. Pala di cammone! Fa tutto bene! Ti si affamisco. Hai paura di fallire? O hai paura di combattere? Cazzo! Attengo! Voi due avete un segretuccio? Aspetta, cosa? No! Non è come te. No! La cosa diventa imbarazzante. Non ci si affano. Grazie a tutti.